Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. È il 15 dicembre 1995, ci troviamo a Salt Lake City, nello Utah. Chris Walker è preoccupato per la sua giovane fidanzata Tracy Beslanovic, che non vede dalle 20 e 25 della sera precedente. La ragazza è uscita indossando una giacca marrone del suo fidanzato per andare a comprare qualcosa da mangiare al Circle K, una catena di minimarket. Chris è preoccupato, ha conosciuto Tracy un anno prima e sa che il suo stile di vita non è dei migliori. I due si sono incontrati a Spokane, Washington. Tracy era scappata di casa ed entrava e usciva dalle case famiglia. Insieme decidono di trasferirsi al Salt Lake City nel luglio del 1995. Tracy, per mantenersi, fa la passeggiatrice. Dopo essersi trasferiti nella zona di North Temple, la ragazza copre un'area di sette isolati. Tracy sicuramente fa un lavoro che la mette in pericolo, ma la sera precedente non si è allontanata da casa per lavoro. Inoltre, soprattutto da quando sta con Chris, la ragazza evita di rimanere fuori per tutta la notte. Nonostante ciò, il ragazzo decide di non chiamare la polizia. Quella stessa mattina, alle 8 e 40, nella contea di Wasatch, nello Utah, circa 70 chilometri da Salt Lake City, un allevatore e suo figlio si apprestano a iniziare a lavorare nei loro campi vicino al fiume Provo. I due hanno guidato fin lì per nutrire il bestiame e sulla via del ritorno hanno parcheggiato in un punto dal quale hanno visto distintamente un cadavere. Viene subito allertato lo sceriffo della zona, Todd Bonner. L'uomo pensa che quella sia una chiamata di routine, forse qualcuno è morto cadendo nel fiume mentre pescava. Insomma, lo sceriffo è convinto che dovrà affrontare un caso semplice. Gli allevatori spiegano come hanno trovato il corpo, che in un primo momento, a causa della lontananza, hanno scambiato per un manichino. Lo sceriffo si avvicina al corpo senza vita e, in un attimo, si rende conto di aver bisogno di rinforzi. La vittima è totalmente nuda e sembra che sia stata picchiata. Lo sceriffo quindi contatta la centrale, chiede rinforzi e un medico legale, perché a quel punto, ne è certo, quello che si trova davanti è un omicidio. Il fiume Provo ha un'ampiezza non indifferente. Quella particolare sezione del fiume è delimitata da grosse rocce di granito grezzo. Proprio alcune di quelle rocce sembrano essere l'arma del delitto, in quanto vi è sopra una notevole quantità di sangue. Mentre attende l'arrivo dei collaboratori, lo sceriffo realizza che sta per lavorare alla sua prima indagine per omicidio. Quando arrivano i rinforzi, i poliziotti si rendono conto che la vittima è stata uccisa in maniera brutale e chiedono sia alla scientifica che al medico legale di esaminare con estrema attenzione la scena. I delitti commessi all'aperto sono complicati per gli investigatori, per via della conservazione delle prove. Se un delitto avviene in un luogo chiuso, basta chiudere una porta per preservarle. Ma all'aperto questo è impossibile e può capitare che alcune prove vadano perse. La ragazza senza vita ha varie chiazze di sangue sulla schiena, i capelli sono castani tendenti al rosso. Sembra sia molto giovane, ma lo sceriffo non vede bene il viso per via della posizione in cui si trova il corpo. La vittima infatti è a faccia in giù. Gli investigatori notano diversi ematomi sulle mani, nello specifico sul dorso della destra. Quanto alla mano sinistra sembra che dalle dita sia stato asportato lo strato più superficiale di pelle. C'è anche una ferita da punta sul tallone della vittima che sembra compatibile con un elemento trovato nelle vicinanze. Vengono infatti trovati dei calzini su una roccia di granito grande e piatta, sono stati piegati con cura e uno dei due ha un buco sul tallone. La vittima ha un po' di terriccio sui piedi, dunque le autorità ipotizzano che ad un certo punto si sia tolto i calzini per camminare a piedi nudi. Questo però non toglie il fatto che quegli indumenti sono stati posati in modo strano su quella roccia. In quel momento le autorità non riescono a capirne il motivo. Per loro non ha senso, almeno per ora. Il terreno è ghiacciato in realtà, quindi non ci sono impronte di scarpe visibili, ma in compenso i poliziotti trovano delle tracce di pneumatici nel fango e nelle pozzanghere. Quelle tracce non appartengono ai veicoli delle forze dell'ordine né alle ruote dell'auto degli allevatori che hanno scoperto il corpo. Quando girano il corpo le autorità realizzano l'entità delle ferite nell'area del viso. Quella ragazza non ha più un volto, è irriconoscibile. Gli investigatori però notano altre caratteristiche identificative, tra le quali un paio di tatuaggi. Uno di essi sulla spalla sinistra rappresenta una specie di croce stellata. L'altro tatuaggio è sul seno sinistro, si tratta di due cuori sopra i quali spicca un nome in stampatello. Chris. Quel nome può riferirsi a un ex oppure all'attuale fidanzato e forse proprio quel fidanzato l'ha uccisa. La polizia scientifica fa dei calchi di gesso delle tracce degli pneumatici registrandoli come prove. Viene organizzata una ricerca lungo il fiume con l'aiuto dell'intera squadra di ricerche e soccorso, nella speranza di individuare prove e indizi. Nonostante vengano percorsi e controllati diversi chilometri lungo il fiume, la ricerca risulta vana e non viene trovato nulla di utile per le indagini. L'indomani il medico legale conferma la valutazione preliminare degli agenti. La giovane donna è morta per un trauma da corpo contundente al cranio e ha ricevuto almeno 16 colpi al viso e alla testa. Secondo quanto stabilito dal coroner, la morte è avvenuta circa 10 ore prima del ritrovamento del corpo. Questo vuol dire che la ragazza dovrebbe essere stata aggredita e uccisa tra le 23 e l'una della sera precedente. La squadra del medico legale preleva campioni di capelli, di fluidi corporei e del materiale sotto le unghie per futuri test del DNA. Nel 1995 in realtà le ricerche sul DNA erano in corso, ma la strada da fare era ancora molta. Un collaboratore del coroner però insiste per il prelievo di campioni di DNA sulla scena. L'uomo, infatti, è sicuro che prima o poi la nuova tecnologia prenderà piede e sarà utile. Grazie al suo consiglio vengono prelevate e preservate tutte le prove organiche. Quando le autorità cercano le impronte digitali della vittima nel database dell'ufficio dello sceriffo, però non trovano corrispondenze. Decidono quindi di registrare le caratteristiche della vittima nel National Crime Information Center dall'FBI, un indice digitale che raccoglie precedenti penali e denunce delle persone scomparse. In quel database si può registrare tutto, la corporatura, il tipo e il colore di capelli, il colore degli occhi, i tatuaggi e i segni distintivi, come ad esempio le cicatrici. Purtroppo le ferite al cranio rendono il volto irriconoscibile, quindi gli agenti possono registrare solo una quantità limitata di informazioni. Le autorità non hanno idea di quale sia l'identità della ragazza. Non aveva alcun documento né vestiti niente che la identificasse. L'unica cosa, l'unico indizio che hanno, di fatto, sono i due tatuaggi. I poliziotti pensano che qualcuno potrebbe riconoscerli, quindi chiedono ad uno dei loro agenti, che è anche un artista, di riprodurli. I disegni vengono poi passati alla stampa e mostrati nel corso dei notiziari. Quella sera, a Salt Lake City, Chris è davanti alla televisione e vede il servizio sui tatuaggi della vittima ignota. Si rende immediatamente conto che assomigliano a quelli della sua fidanzata, Tracy. Contatta quindi la polizia di Salt Lake, che a sua volta contatta le autorità della Contea di Wasatch. Chris, chiaramente per l'autorità, diventa il principale sospettato e, appena la polizia di Salt Lake City lo rintraccia, gli investigatori lo raggiungono. Interrogano Chris nella sua camera d'hotel, nella zona est della città. Le autorità gli mostrano di nuovo le riproduzioni dei tatuaggi e Chris spiega sia dove la sua fidanzata gli aveva, che il loro significato. Il ragazzo quindi comunica alle autorità l'ultima volta in cui ha visto Tracy. E nel corso della conversazione gli agenti vengono a sapere il mestiere della ragazza. Chris racconta che nel pomeriggio del 14 dicembre Tracy è stata con un cliente in camera. Quando lei è entrata con il cliente lui è uscito per andare a mangiare qualcosa da qualche parte. È stato via per circa 20 minuti e una volta tornato all'hotel si è messo fuori ad aspettare, fino a che non gli ha visti uscire e salire insieme su una berlina di colore blu. Questo in realtà l'aveva un po' infastidito, ma era comunque tornato in camera. Tracy è tornata circa 10 minuti dopo. Chris a questo punto spiega che poi, alle 20 e 25, la ragazza è andata a comprare la cena presso una vicina stazione di servizio. E non è più tornata. Cosa che, vi ricordo a quanto pare, non era affatto da lei. Il ragazzo infatti spiega che Tracy in realtà era molto prudente e non si allontanava mai dal quartiere. Non restava fuori fino a tardi. Chris quindi spiega alle autorità che verso le 11 di quella sera era andato a piedi nella vicina stazione di servizio che si aveva parlato con il commesso, che però non aveva visto Tracy. Chris inoltre fornisce un'altra importante informazione. Sembra che Tracy avesse una specie di fobia. Non toglieva mai i calzini, tranne quando si doveva fare la doccia. Quando li sfilava, sembrava seguisse una specie di rituale, piegandoli con cura. Il ragazzo in realtà racconta che l'ha sempre presa un po' in giro per questa sua strana fissa. I detective ovviamente ricordano che durante il sopralluogo sulla scena del crimine hanno trovato i calzini ben piegati su una pietra e ipotizzano che Tracy si sia ferita un piede, si sia presa il tempo per sedersi su una roccia piatta, sfilarsi i calzini e piegarli. Chris sembra dire la verità, tuttavia questo non basta per escluderlo dalla lista dei sospettati. Ad ogni modo le autorità non hanno alcuna prova anche solo per ipotizzare che lui sia colpevole. Chris si dimostra collaborativo e fornisce alle autorità l'unico numero che conosce per entrare in contatto con la famiglia di Tracy. Gli investigatori che hanno anche chiesto il fascicolo di Tracy alle autorità dei Salt Lake City si rendono conto che il numero coincide, è quello di suo padre per l'esattezza. Ora che è stata identificata, gli investigatori devono indagare sulla vita della vittima. Gli agenti quindi compongono il numero e dall'altra parte del telefono risponde proprio il padre di Tracy. Le autorità comunicano all'uomo che Tracy è stata assassinata. L'uomo, dopo qualche secondo di silenzio, esclama «No, non è mia figlia Tracy, lei sta dormendo nella sua camera da letto. Ecco, la sto guardando proprio in questo momento». A questo punto l'investigatore dall'altro capo del telefono fornisce la descrizione della vittima, soprattutto dei tatuaggi. L'uomo, dunque, risponde che la descrizione corrisponde decisamente a quella della sua figliastra, Crystal Beslanovic, che aveva utilizzato il nome di Tracy in molte occasioni in passato. L'uomo spiega per l'appunto che è la figlia di sua moglie e ormai non la vede e sente da un bel po'. La donna fa la passeggiatrice, è un'attività che è illegale, quindi è probabile che sia stata arrestata e che abbia fornito il nome della sua sorellastra e non il suo per fare in modo di tenere nascosta la sua vera identità. L'uomo continua la conversazione dicendo «Sapevo che sarebbe finita così, Crystal non ha mai avuto speranza». Ma chi era Crystal? Crystal è nata il 6 giugno 1977. Il padre biologico è annegato quando lei aveva solo 4 anni e il rapporto con la madre è sempre stato molto turbolento. Crystal probabilmente era convinta di non essere amata da nessuno o di non meritarsi l'amore di nessuno. Fuggiva di casa continuamente, passava da una casa famiglia all'altra e alla fine veniva arrestata perché non aveva soldi e per riuscire a sopravvivere doveva rubare. Nonostante le difficoltà, Crystal non voleva vivere dove non si sentiva amata e in qualche modo si sentiva più sicura sulla strada che in casa sua. L'investigatore chiede al patrigno di Crystal se ha per caso il numero di telefono della madre della ragazza. Quando quest'ultima viene a sapere dell'accaduto accetta di parlare con gli investigatori. Anche la madre di Crystal, nonostante sia chiaramente sofferente dice agli investigatori che sapeva sarebbe successo prima o poi a causa della vita che sua figlia aveva deciso di condurre. La donna racconta che Crystal era molto ribelle ed ha iniziato a fare uso di sostanze quando ha conosciuto un gruppo di ragazzi scapestrati all'età di 15 anni. Prima Crystal sognava di fare la scrittrice. La donna dice però agli investigatori che sa ben poco della vita che conduceva la figlia nell'ultimo periodo. Da quel che si ricorda probabilmente aveva un fidanzato di nome Chris. Gli investigatori a questo punto capiscono che è necessario insistere con Chris che sembra aver celato intenzionalmente la vera identità di Crystal. L'uomo ha per caso qualcos'altro da nascondere? Sta mentendo su qualcosa d'altro? E soprattutto perché non ha denunciato la scomparsa della sua ragazza? Chris resta il principale sospettato così gli investigatori lo convocano di nuovo per sottoporlo ad un altro interrogatorio. I poliziotti gli domandano cosa faccia nella vita e l'uomo risponde che per vivere non fa niente. A mantenerlo era Crystal che pensava ad entrambi. Era lei a portare i soldi a casa e lui senza di lei non aveva niente. Il fatto che Chris dipendesse economicamente da Crystal gioca ampiamente a suo favore. Non solo gli manca il movente per uccidere la ragazza, ma anche i mezzi. Il ragazzo non ha un'auto e Salt Lake City si trova a 70 km dalla scena del crimine. Non è possibile materialmente raggiungere quel posto senza un mezzo di trasporto. Nonostante Chris in effetti sembri innocente l'assenza di altri sospettati plausibili porta gli investigatori a continuare a tenerlo d'occhio. Il giorno seguente un agente scopre nuove prove sulla Statale 40 tra Salt Lake City e la scena del crimine. Il poliziotto trova un paio di scarpe più o meno ad un chilometro dal luogo del delitto. Carpe nere, da donna, appoggiate ordinatamente sulla linea bianca esterna della carreggiata destra. Il posizionamento così preciso sembra mandare un segnale. Gli investigatori hanno l'impressione che l'omicida stia in qualche modo giocando con loro. L'agente ha quindi iniziato a percorrere la Statale 40 in direzione ovest verso Salt Lake e ha trovato altri capi di abbigliamento che Chris ha poi identificato come appartenenti a Crystal. Gli agenti setacciano anche il quartiere dove Crystal, nota come Baby Tracy, esercitava il mestiere. Trascorrono molto tempo in quel quartiere di sette isolati parlando con numerose passeggiatrici che lavorano in quella zona. In effetti in molte la conoscevano. Sapevano che era una ragazza molto bella, molto curata. Riferiscono di aver capito che era nuova del mestiere. Ma nessuna delle altre passeggiatrici l'ha vista la sera in cui è scomparsa. Non possono quindi essere di alcuno aiuto agli investigatori. Attraverso i media le autorità esortano la comunità a dare una mano nella ricerca dell'assassino. Tre giorni dopo il ritrovamento del corpo della ragazza, la polizia ottiene una nuova ed importante pista. Un uomo di nome Herb Fry Chiama la centrale Conosceva Crystal come Baby Tracy L'uomo spiega di essere un tassista e di aver conosciuto Crystal perché girava col taxi nelle zone in cui lei lavorava. Di tanto in tanto le aveva offerto dei passaggi e a volte quando capitava di vederla a notte fonda le comprava del caffè. Herb spiega che sentiva di aver stretto un'amicizia con quella ragazza che si fidava di lui e per lui questo era importante. A quanto pare il tassista aveva iniziato a provare qualcosa per lei e col tempo quel sentimento non aveva fatto altro che crescere al punto da dire agli investigatori che la amava. L'uomo avrebbe voluto stare con lei sognava addirittura di sposarla e di avere dei figli insieme. Herb sostiene di averla vista l'ultima volta il giorno prima che la trovassero senza vita. Si era fermato all'hotel per far scendere un cliente e l'aveva vista lì. L'uomo dunque si era fermato a parlarle le aveva chiesto quando avrebbe accettato di uscire con lui. Crystal ovviamente gli aveva risposto che non ne aveva idea e il tassista aveva sottolineato come non sopportasse che la giovane andasse con altri. Ma Crystal gli aveva sorriso dicendogli che quello era il suo modo per guadagnare e sopravvivere. Allora Herb gli aveva risposto che si sarebbe preso cura lui di lei. Crystal gli aveva detto che era molto dolce. A quel punto però qualcuno aveva interrotto la loro conversazione. Era circa mezzogiorno e ad Herb era arrivata una chiamata e dunque se ne era andato. Diciamo che il tassista aveva una forte infatuazione per la ragazza. Dopo il colloquio le autorità collocano Herb il tassista in cima alla lista dei sospettati. Lui sì che aveva un'auto con cui poteva andare da Salt Lake City all'uomo in cui era stata uccesa Crystal nella contea di Wasatch. Gli investigatori interrogano gli amici e i conoscenti di Herb e concludono che i sentimenti che lui nutriva per Crystal avrebbero potuto costituire un movente. L'uomo infatti aveva detto a più di un amico che se non poteva averla lui allora non poteva averla nessuno. Tre settimane dopo il rinvenimento del suo corpo lungo le sponde del fiume Provo Crystal viene sepolta mentre gli investigatori stanno ancora cercando di trovare il suo assassino. Purtroppo non riescono a trovare le prove di cui hanno bisogno. Non c'erano impronte digitali sulle rocce usate per picchiare a morte Crystal né altre prove significative sulla scena del crimine. Il caso dunque ben presto si arena. Passano ben 11 anni e gli investigatori sono ancora lontani da risolvere il caso. Tuttavia nel frattempo emergono nuovi metodi per analizzare le vecchie prove. Fortunatamente durante la prima autopsia il lungimirante investigatore dell'ufficio del coroner aveva suggerito di prelevare ogni cosa capelli, unghie e fluidi corporei e incluso il liquido seminale e anche se all'epoca la polizia non aveva accesso illimitato alla tecnologia dell'analisi del DNA. Tutto però cambia nel 2008 quando le autorità della Conte di Wosach iniziano a collaborare con un laboratorio di analisi del DNA. Riescono dunque a far esaminare quattro delle sei rocce rinvenute sulla scena del crimine. Rilevano che c'era del sangue su una parte della roccia mentre un'altra sezione non era macchiata. Gli investigatori in realtà presumono che il sangue sulle rocce sia della vittima ma sperano di trovare delle cellule epiteliali sulla parte di roccia non macchiata quella impugnata dall'omicida per sferrare i colpi. Nel 2008 il principale metodo di rilevazione è il prelievo per mezzo di tamponi. Dalla parte di roccia macchiata di sangue gli esperti ricavano un profilo genetico femminile che corrisponde a quello della vittima Crystal. Analizzano anche le aree non macchiate e su queste vengono trovate piccole quantità di DNA maschile. Il nuovo campione però non è sufficiente per ricavare un profilo genetico completo ma potrebbe essere comunque utile. È infatti possibile usare il profilo parziale del DNA per iniziare a escludere dei possibili sospettati. Gli investigatori quindi che fanno rintracciano Chris l'allora fidanzato di Crystal il quale accetta di fornire un campione del DNA. I tecnici determinano che non corrisponde al campione parziale trovato sulle rocce dunque come è giusto che sia escludono Chris dai sospettati. A questo punto gli investigatori si concentrano su Herb il tassista che 11 anni prima aveva ammesso di essere innamorato di Crystal. I poliziotti a questo punto sono quasi sicuri che sia stato lui a uccidere la ragazza quindi il prossimo passo è riuscire a recuperare un campione di DNA dal tassista. Riescono dunque a seguirla al lavoro senza che lui se ne accorga e quando esce a fumare una sigaretta uno dei detective decide di unirsi a lui. Vede chiaramente dove l'uomo ha spento la sigaretta nel posacenere e la raccoglie per farla analizzare. Ma anche il DNA del tassista combacia con il campione a disposizione. Gli investigatori sono nuovamente a un punto morto. Nel 2009 la gente che ha risposto alla chiamata ed è andato sulla scena del crimine diventa sceriffo della contea di Wasatch. Il caso irrisolto di Crystal è sempre nei suoi pensieri. Nel 2013 un'altra innovazione tecnologica permette agli investigatori di fare un nuovo tentativo per risolvere il caso. È stato creato un nuovo tipo di strumento per l'estrazione del DNA denominato MVAC System. In realtà funziona come un mini aspirapolvere e aspira tracce di DNA da superfici ampie e porose. Si passa sull'elemento che si vuole analizzare e il DNA estratto con un fluido sterile resta intrappolato in un filtro. Così i poliziotti provano a richiedere lo strumento per cercare di ottenere altro DNA dalle rocce. Fortunatamente riescono ad utilizzare questa macchina. Riesaminano la roccia su cui era stato individuato il DNA parziale ed esaminano per la prima volta altre due rocce. Si tratta per l'esattezza di rocce di granito molto grezze porose e con i bordi irregolari. Il nuovo strumento in questi casi è perfetto perché riesce ad arrivare in fondo ad ogni crepa ed estrae cellule epiteliali saliva e sangue. Il sistema poi in effetti raccoglie molto più DNA rispetto ai tamponi. La nuova tecnologia riesce a fare ciò che sembrava impossibile ritrovare un profilo genetico completo da una superficie porosa e rocciosa 18 anni dopo essere stata maneggiata dall'assassino di Crystal. Gli investigatori quindi inseriscono la nuova informazione nella banca dati dell'FBI e questa volta la ricerca rileva una corrispondenza. Un uomo il cui nome non è mai emerso durante l'indagine Joseph Michael Simpson. Nel 1987 Joseph era stato condannato per omicidio a Clairefield nello Utah. Aveva ucciso un uomo accecato dalla gelosia per una ragazza. Lavorava in un ristorante aveva conosciuto una giovane che lavorava lì e gli piaceva molto così le aveva chiesto un appuntamento. Lui la considerava già come la sua fidanzata ma un altro dipendente che parlava sempre con lei le aveva chiesto di uscire e questo l'aveva fatto infuriare. Aveva quindi preso un coltello ed era andato a casa del suo collega. Il ragazzo aveva ricevuto ben 13 coltellate ed era morto per le ferite. Rabbia e violenza eccessiva esattamente come nel caso di Crystal. Joseph era stato rilasciato nel 1995 era in libertà condizionale nel periodo della morte di Crystal e lavorava per una compagnia di navette all'aeroporto internazionale di Salt Lake City. L'uomo trasportava le persone dall'aeroporto a un resort di Midway per raggiungere questo resort a volte passava proprio nell'area del fiume Provo altre volte nell'area di Park City. Quando passava nell'area di Park City percorreva proprio la River Road la stessa zona in cui era stato trovato il corpo di Crystal. Non c'erano dubbi quindi che Joseph conoscesse molto bene quell'area. Gli investigatori a questo punto consultando i registri scoprono che nel 2003 Joseph ha avuto il permesso di lasciare l'aiuta per trasferirsi nella Florida centrale. L'uomo vive a Sarasota con la madre e il patrigno. Ma per poterlo arrestare chiaramente serve un nuovo campione di DNA. Una squadra tiene d'occhio Joseph e la casa in cui abita con la madre è il compagno di lei. Osservano i suoi spostamenti e lo pedinano. Arriviamo al 25 agosto quando gli investigatori seguono Joseph fino ad una tabaccheria. L'uomo quando esce ovviamente fuma una sigaretta che poi getta per terra. Lo sceriffo dunque va a raccogliere il mozzicone per ottenere un nuovo campione e fare un confronto col profilo dell'ultimo DNA rilevato. Dieci giorni dopo finalmente c'è un riscontro. Joseph è il responsabile dell'omicidio di Kristal Beslanovic. Il 17 settembre 2013 17 anni due mesi e nove giorni dopo l'omicidio le autorità di Sarasota insieme alla contea di Wozac arrestano l'assassino di Kristal. Tre anni dopo l'accuso istruisce il caso contro Joseph dopo aver decodificato gli indizi che hanno risolto un mistero durato quasi due decenni. Secondo l'accusa poco dopo le 8 di sera del 14 dicembre 1995 Kristal lascia l'hotel benché abbia detto al fidanzato che è diretta verso una stazione di servizio in realtà sarei a bordo di un'auto quella di Joseph probabilmente le sono stati promessi sia soldi che sostanze e la ragazza ha accettato. Secondo l'accusa Joseph ha portato Kristal sulla River Road lì hanno avuto un rapporto intimo e qualunque cosa Joseph abbia fatto in seguito deve aver spaventato Kristal così tanto da farla fuggire. La ragazza è iniziata a correre e probabilmente si è ferita forse pestando una rete di ferro quando lui l'ha raggiunta forse si sono detti qualcosa forse lei ha cercato di calmarlo si è seduta perché il piede le faceva male e si è sfilata i calzini poi in un punto più vicino alle rocce lungo il fiume lui ha raccolto una pietra e ha iniziato a colpirla direttamente in faccia non c'era nessuno che potesse sentirla urlare o correre in suo aiuto aveva molte ferite sulle mani quindi deve aver lottato tantissimo tuttavia ricostruire nei minimi dettagli ciò che le è successo è impossibile ma c'è una certezza Joseph impugnava la pietra che le ha sfondato il cranio arriviamo al settembre del 2016 ossia alla fine del processo la giuria emette il verdetto Joseph viene considerato colpevole di omicidio e condannato all'ergastolo senza possibilità di condizionale resterà in prigione fino alla morte detto questo ragazzi ho finito di parlarvi di questo caso fatemi sapere cosa ne pensate come al solito di questo caso qui sotto nei commenti io l'ho trovato molto molto interessante e quindi ho deciso di proporvelo fatemi sapere se lo conoscevate già detto questo e vi mando un bacione ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.